Bene, benvenuti in questo nuovo sito, un sito particolare ancora a meta, nel quale ci saranno diverse cose, ci saranno dei servizi, non sarà un sito internet chiuso in se stesso, anzi sarà molto aperto, infatti è un sito aperto ai commenti, alle idee di altre persone, altri siti, altri enti, altre adenne, altre imprese, insomma un sito che crescerà con il tempo, che cambierà leggermente, insomma sarà un po' work in progress, già l'interfaccia è spiazzante, sarà sempre più personalizzabile, ci sarà un work processor, oggi non funzionante, ci sarà un cuore di calcolo e molto molto di più. Grazie a tutti.